Sì, c'è rammarico perché comunque purtroppo per quattro errori banali nostri, evitabilissimi, abbiamo perso una partita che comunque abbiamo giocato un'ottima partita, è lungo il largo, però purtroppo quando commetti tanti errori è difficile perché noi siamo riusciti a rimontare due volte col Como e domenica col Dertona. Oggi non ce l'abbiamo fatta ma perché c'è stata una serie di errori che dovremo sicuramente cercare di evitare di fare le prossime partite, il Varese è stato bravo a sfruttarli e non ha demeritato sicuramente. Ho visto un Varese sicuramente motivato come sapevamo alla vigilia di trovarlo perché giustamente tre punti, tre partite e un punto di certo non poteva che non essere affamato. Noi sapevamo di incontrare una squadra con questa mentalità dove abbiamo cercato di partire noi più forti, invece il gol di Granzotto diciamo che ci ha un po' dato lo scossone, idem subito il 2-0. Poi da lì comunque non abbiamo abbassato la guardia, anzi si è giocato, abbiamo creato un sacco di palle e gol perché comunque abbiamo qualità. È normale che quando va poi tutto storto, Guccione si fa male nel riscaldamento, Di Renzo si fa male dopo il gol e comunque sono due giocatori che per noi insieme ai vari D'Antoni, corti, per noi che comunque pesano la loro assenza. Detto questo non è assolutamente un alibi e vedremo adesso domenica con la Caronnese. L'obiettivo non cambia da mercoledì a oggi, non è una sconfitta che mi fa abbassare la guardia, ho la voglia di arrivare dove la società si è prefissata all'obiettivo, dove io personalmente voglio arrivare, è quello sicuramente di provare a vincere il campionato come abbiamo provato l'anno scorso col Varese, quest'anno voglio provare con la Pro Sesto fino all'ultimo a cercare di vincere il campionato. Siamo un'ottima squadra, lavoriamo tutti i giorni al massimo e ci proveremo. Come ti ho già detto, da una parte è stato meglio per me paradossalmente, però è stato un clima surreale, perché veramente mi ricorderò sempre io, ma mi viene la pelle d'oca solo a pensare, c'è i vari boati di tanti gol nostri, miei, che non lo dimenticherò mai. È normale che vedere uno stadio vuoto sembrava una giornata in cui era un allenamento, una partita d'allenamento. Quindi da una parte mi ha fatto un po' strano, perché comunque c'era più gente quando ci allenavamo, forse quei vecchietti, Rinaldi e compagnia, quindi era un po' così. Ma Iacolino che pensi alla sua squadra? Noi sicuramente lavoriamo tutti i giorni al massimo e ce la metteremo tutta per dare filo da torcere alle varie squadre con cui lotteremo fino alla fine. Grazie.